Con una allegra primaverile toilette a righe festeggia le sue nozze d'oro. Quando nacque la tramvia sospesa di Fupertal era una novità. Appiccicata per il ciuffo a una specie di strada ferrata del cielo con le sue stazioni a mezz'aria, era un inconsapevole augurio al secolo che doveva dominare le vie dell'aria. 13 chilometri sui canali e sui tetti. Un tram che mette di buon umore, illude di avere le ali ai piedi. Anche chi arriva in ritardo all'ufficio può giustificarsi. Sono venuto di volo.